Il teatro dei sentieri di Reggio Emilia, nell'ambito della rassegna Tutti giù nel parco, promossa dalla Consulta B, ha presentato nella serata di domenica 4 settembre, presso il parco Berlinguer di Carpi, lo spettacolo All'alba vincerò. Spettacolo per sensibilizzare il problema del gioco d'azzardo patologico a cura dell'Unione delle Terre d'Argine e ASL di Modena, per contenere le conseguenze dell'abuso del gioco in termini di salute delle persone, drammi familiari e disastri economici e sociali. Grazie al progetto sono stati numerosi i servizi messi a disposizione della cittadinanza per contrastare i rischi del gioco d'azzardo a cui le famiglie dell'Unione possono accedere gratuitamente. Lo spettacolo che si intitola All'alba vincerò è uno spettacolo che parla del gioco d'azzardo patologico, ma ne parla in un modo particolare perché non è facile affrontare questa tematica sociale così importante senza scadere nell'ovvietà o nella drammaticità, nella pesantezza. Quindi noi abbiamo cercato di creare uno spettacolo dove ci fosse la parte emotiva e quindi ci sono dei dialoghi, Gianni interpreta diversi ruoli e io anche, dei dialoghi veri che noi abbiamo davvero creato sulla base di storie vere, di persone che hanno avuto il problema del gioco d'azzardo. E poi c'è la parte invece un fil rouge più comico diciamo così perché io interpreto in tutto lo spettacolo c'è questo personaggio della slot machine che rappresenta un po' la seduzione grottesca però, giusto Gianni? Perché io sono veramente... Sì, seducente ma in modo brutto. Una brutta seduzione per far capire comunque come ci sono alcuni giocatori che parlano davvero con la slot machine, si crea una sorta di dialogo. Lei lo fa un po' in maniera affascinante, provocante, così. E' quello che pensiamo comunque che avvenga, no? Alle persone che vengono risucchiate in questi meccanismi poi alla fine. Lo spettacolo si intitola così, all'alba vincerò citando la celebre opera Turandò di Puccini. Perché? Perché parlando con molti giocatori di diversa tipologia, uomini, donne, anche di diversa età, quasi tutti insistevano nel dire che la loro tendenza era di giocare fino all'alba. Come dire, all'alba vincerò proprio. C'era questo leitmotiv e allora... Anche perché non riuscendo a staccarsi dal denaro perso facevano in modo di giocare fino allo sfinimento. Poi lo dicono anche in un monologo, fino a che le palpebre non cadono e si è costretto a lasciare andare. Lo spettacolo si è pregiato di musiche composte dal maestro Ovidio Bigi, anche lui facente parte del teatro dei sentieri. Le musiche solitamente nei nostri spettacoli vengono composte da me e poi concertate insieme. Strutturalmente la musica viene composta leggendo il testo, quindi faccio una prima lettura del testo e poi dopo cerco di trovare un'ispirazione adatta per comporre una musica che si possa sistemare bene sul testo, insomma come un vestitino. Quindi sono tutte musiche che hanno una loro attinenza col testo, quindi non peschiamo musiche in giro ma ci avvaliamo appunto di questa cosa, di comporre la musica proprio sul testo. E quindi è un lavorare sull'ispirazione che dà il testo poi praticamente. Grazie a tutti.